C'è la parte questa qui che è stampata in 3D, che sarebbe il cerchietto, che è flessibile, che lo metti in testa. Non si appanna, insomma, riesci a vedere. La cosa buona è che poi hai totale mobilità a 360 gradi. Questo progetto è nato grazie all'associazione di visionari, si chiama Make It, e punta a riunire la più grande community di makers in Italia. Questo per che cosa? Beh, per stampare dispositivi protettivi, per donarli ai medici, ai infermieri, ai commercianti, soprattutto che in questo momento di fase 2 vi è stato un incremento della richiesta. È possibile iscriversi e accedere al sito tramite visionari e iniziare immediatamente a collaborare con noi. La visiera, diciamo, innanzitutto serve a proteggere principalmente la parte del viso, in particolar modo gli occhi. È una barriera, è uno scudo sia tra la persona che parla con l'interlocutore e quindi la protegge da una contaminazione esterna, ma pure chi parla, diciamo, blocca internamente tutte quante le goccine di saliva o di sudore che potrebbero andare a colpire l'altro interlocutore. Utilizzo una stampante con il filamento di PLA e successivamente vado ad applicare un foglio, una lastra di plexiglass. Beh, la motivazione fondamentale è stata guardare principalmente anche negli ospedali, visto che mio nonno è stato ricoverato non per Covid-19, però ha la paura negli occhi delle infermiere e quindi ho cercato di voler donare e creare qualcosa in più. Da quel momento poi non mi sono voluto fermare e ho iniziato ad avere delle prime richieste e a questo momento abbiamo superato soltanto nel mio quartiere le 250 richieste.